No, veramente si è a caccia di qualcuno Dentro d'odore di pietrisce Quindi sono con l'occhio in quel piano Sindaco buongiorno, era con Letta e Di Maio E' pronto a fare una lista nazionale No, no, sto cercando di dare una mano E' chiaro che Enrico Letta è il segretario di un partito Che per me è un riferimento, non essendo un mio partito E' anche un amico da tanti anni Quindi più che altro non ho capito la situazione Io non sarò parte di questa partita Ma questo l'ho detto molte volte Da qua a disinteressarmi rispetto a un momento così delicato per il nostro paese Lei non si impegna direttamente Ma dentro c'è anche Di Maio Insomma, una lista insieme non la fate Allora, ripeto, io non sarò parte diretta della creazione di nulla Però, ripeto, il mio interesse è capire Il mondo del centro-sinistra come sarà e come affronterà questo momento delicato Ci sono principi fondamentali che sono la base del mio modo di vedere politica I miei valori L'idea di dare importanza e peso al ruolo dell'ambiente A un credo europeista totale Queste sono le cose che porto sempre al mio amico Lent Ministro, una lista insieme a Sala Alleato del PD E questa soluzione Una lista insieme a Sala Ciao, grazie Buon lavoro a tutti, ciao Grazie